Ciao a tutti amici Nerazzurri, bentornati sul canale, bentornati su Filippo Tramontana TV. Allora ragazzi, stiamo aspettando, vi sto registrando il video ancora in attesa della conferenza stampa della Turchia di Vincenzo Montella e quindi sarà un video un pochino più breve anche perché probabilmente in aggiunta ci sarà un terzo video fatto magari più tardi questa sera alla luce delle dichiarazioni che arriveranno da Montella e credo da Cialanoglu in conferenza stampa. È chiaro che in questo momento l'argomento principale in casa Inter è il discorso che riguarda quello che sta succedendo attorno a Cialanoglu, alla Turchia e ovviamente indirettamente e direttamente anche per il discorso che riguarda l'Inter. Cosa è successo? Lo sappiamo bene, facciamo un riassunto molto breve. Cialanoglu infortunatosi con la nazionale un mese fa, sta per tre settimane fermo, l'Inter lo recupera dopo tre settimane senza poterlo usare. Gioca due partite ravvicinate in quattro giorni con l'Inter, due partite fondamentali per la stagione dell'Inter. Inter-Arsenal in Champions League dove Cialanoglu risulta anche il match winner con il calcio di rigore che fissa il punteggio finale sull'1-0 e dà tre punti importantissimi per l'Inter nella corsa alle prime otto della classifica di Champions. E poi Cialanoglu è decisivo e nel bene e nel male anche contro il Napoli perché il Napoli va in vantaggio. Cialanoglu fa il gol dell'1-1, un gol clamoroso dai 30 metri con un tiro sotto l'incrocio dei pali. Dopodiché ha la palla sul dischetto per far vincere la partita all'Inter e sbaglia il primo rigore dopo 19 gol consecutivi, rigori segnati consecutivi prendendo il palo e quindi un po' sfortunato anche in questo discorso. L'Inter lo fa giocare in due partite dopo averlo recuperato e aspettato per tre settimane e poi va in nazionale e dopo 45 minuti Ciala si fa di nuovo male. Da lì inizia il giallo. Perché inizia il giallo? Inizia una situazione non chiarissima. Montella lo toglie per questo infortunio. Dopodiché in conferenza stampa post partita dichiara che lui non avrebbe mai tolto Cialanoglu, che in qualsiasi partita non lo toglierebbe mai, che qualsiasi allenatore secondo lui Cialanoglu lo toglierebbe mai e su questo possiamo essere d'accordo ma ha sentito male e quindi ha deciso di levarlo. Perché Cialanoglu gli ha detto, Akan gli ha detto di avere sentito una punturina nello stesso punto in cui l'infortunio era già sottopalesato un mese prima. A quel punto sembra chiara la situazione, Cialanoglu deve fare gli esami e nel momento in cui si fanno gli esami si capisce cos'ha e si decide il suo futuro immediato per tornare a Milano piuttosto che. Dalla Turchia trapele al fatto che Cialanoglu fa gli esami, non viene fuori niente di grave, quindi nessuno stiramento, nessuna lesione, quindi quella punturina è un punto, diciamo così, è un segnale d'allarme, però Cialanoglu non ha lesioni. La Turchia gioca contro il Belgio, la partita in cui si fa male Cialanoglu, e ha da preparare un altro match contro il Montenegro. A quel punto cosa si pensa? L'Inter pensa che la Turchia, una volta stabilito l'infortunio di Cialanoglu, anche se non ci sono lesioni, eccetera eccetera, come dice la Turchia dopo gli esami in Turchia, l'Inter pensa che la Turchia a quel punto prenda Cialanoglu, gli dica di tornare a Milano per farsi visitare dei medici dell'Inter per tornare ad Appiano e poi iniziare il recupero, a questo punto se Cialanoglu non ha niente, un recupero veloce, verso le partite nero-azzurre con il proprio club che lo paga 6 milioni e mezzo di euro l'anno. Tutto farebbe pensare a una soluzione del genere, anche a livello logico no, le cose possono andare così. Invece succede che la Turchia e Montella su tutti decidono di tenere il giocatore, e pensano addirittura di poterlo convocare nella partita contro il Montenegro per stare in panchina. Chiaro è che l'Inter a questo punto si innervosisce, non gradisce, insomma ragazzi è un cavallo di battaglia mio, la nazionale è importantissima, nessuno toglie importanza della nazionale, ma i club pagano milioni e milioni di euro i giocatori, almeno a questo livello. C'è la Noglu, i 6 milioni e mezzo all'anno li prende dall'Inter, non li prende dalla Turchia, poi che uno debba rispondere alla nazionale, esattamente come Lautaro con l'Argentina dopo la polemica che è nata, è giusto che Lautaro risponda all'Argentina anche se stanco, ma che uno che va in nazionale e si fa male non torni nel club di appartenenza è secondo me una cosa senza senso. A questo punto, se vogliamo arrivare a questo livello, che le nazionali comincino a pagare parte degli ingaggi dei giocatori con i club. Quindi 6 milioni e mezzo di euro di Cialanoglu, se così devono essere gestite le cose, comincino a essere pagati in parte dalla nazionale turca in base a quanto usa il proprio giocatore o il giocatore della club di appartenenza. Aperta e chiusa la polemica, cosa succede? Che l'Inter si aspettava che la Turchia prendesse Cialanoglu e gli dicesse guarda Ciala, tu qua hai fatto tutto quello che devi fare, ti sei fatto male, è già successo un mese fa, adesso torna a Milano, ti fai curare dai medici dell'Inter che ti devono recuperare per le prossime partite. Invece così non è. Perché dico che oggi il video sarà più breve? Perché non abbiamo elementi ulteriori. Siamo rimasti al fatto che Cialanoglu ha fatto gli esami, e questo ce lo dicono dalla Turchia, noi non abbiamo ancora cose ufficiali, che non è venuto fuori niente di particolarmente grave dalla punturina sentita da Ciala in partita. E quindi Cialanoglu non torna a Milano ma rimane con la nazionale turca. E addirittura oggi si paventava l'idea, e stiamo aspettando, sto aspettando appunto di vedere se poi sarà verificata o no, che Cialanoglu andrà in conferenza stampa con Montella a parlare. Se sarà così, ovviamente Montella in conferenza stampa ci sarà, conferenza stampa pre partita, e quindi ci spiegherà cosa è successo con Cialanoglu e ci spiegherà le sue condizioni, e se torna a Milano, non torna a Milano, perché non torna a Milano e perché rimane con la nazionale turca. E se ci sarà anche Cialanoglu in conferenza stampa, come dicono dal ritiro della nazionale turca, a quel punto capiremo ancora di più dalle parole del giocatore. Sicuro è che questa è una situazione che ha creato parecchie tensioni tra nazionale turca e inter. Metto subito le mani avanti, io al giocatore non do nessun tipo di colpa, a parte che conoscendo il carattere di Ciala è anche più facile dirlo, ma comunque il giocatore quando si trova in mezzo al club e alla nazionale, secondo me fa sempre bene a fare un passo indietro, perché sono i vertici della nazionale e i vertici del club a doversi parlare, a dover risolvere la questione. Non deve essere il giocatore a infilarsi in mezzo, perché potrebbe comunque creare un po' di tensione sia all'interno del club, sia con il proprio club, sia con la propria nazionale. Quindi la cosa saggia da fare da parte di un giocatore, quello che sta facendo anche Ciala in questo momento, è quello di tirarsi un pochino indietro e far sì che le due parti in causa, club e nazionale, si parlino per trovare una soluzione diplomatica che non trovi comunque possibilità di andare allo scontro. Chiaro che in questo momento invece sembra che questa soluzione non si stia trovando, quindi sembra che Inter e Turchia siano ai ferri corti per questa questione che riguarda Ciala. Cerchiamo di capire meglio dalla conferenza stampa che dovrebbe esserci da qui a breve e poi ci riaggiorniamo con il prossimo video, magari questa sera dopo cena o dopo la conferenza stampa, in modo da capire esattamente quello che è successo dalle parole di Montella, dalle parole di Cialanavulo e poi commentare di nuovo. Quindi io vi aspetto per il prossimo video. Ragazzi mi raccomando, intanto vi saluto, vi ricordo tutti i click possibili, campanella, pollice in su, i commenti qua sotto e iscrivetevi mi raccomando al canale. Ci vediamo dopo la conferenza stampa e vediamo cosa ne viene fuori e la commentiamo. Ciao ragazzi, forza Inter, a dopo. Eccomi ragazzi, solo piccolo aggiornamento. Stavo editando il video, prima di editarlo è uscito all'ultima ora e quindi aggiungiamo un piccolo particolare. Quindi ho salutato ma non l'ho salutato. Questo è un pezzettino aggiunto al video che ho registrato prima, ma proprio appena spento è arrivata una notizia importante. Ha parlato il medico dell'Inter, dottor Volpi, che ha riportato il fatto di aver parlato con i dirigenti della Turchia e che a Cannes sembra comunque non avere niente di grave, cosa che sapevamo già, o meglio quello che arrivava dalla Turchia, però adesso lo dice anche il dottor Volpi, il dottor Volpi dice che al rientro dalla Nazionale e qui bisogna capire quando, farà altri esami per accertarsi delle condizioni e poi si capirà quando potrà recuperare. Ho solo giunto questa postilla, tutti i clic li sapete già, li ho detti poco fa e quindi nulla. Ciao ragazzi, sempre forza Inter, ci vediamo dopo la conferenza. Grazie.